Ecco la collezione di credenze Emadia modello Ohio. Allora dicevamo credenze Emadia, la credenza ha la dimensione 180, 210, 240. In realtà le dimensioni effettive sono 183, 213, 243. Perché? Perché rispetto al modulo dei contenitori accostati c'è tutto questo perimetro lavorato a 45 gradi con pannelli di spessore 1,5 che contorni a tutta la struttura. Quindi vediamo la parte centrale che so 180, 210, 240 più 1,5 più 1,5 quindi si somma il 3. Dicevamo lavorato a 45 gradi sulla parte superiore, tra l'altro con un piacevole scuretto di un paio di millimetri che lo rende ben finito ed evita situazioni dove magari disallenamenti millimetrici possono risultare antiestetici. La stessa giuntura è lievemente diversa nella parte inferiore dove non c'è la lavorazione a 45 gradi ma vengono giusto apposti i due pannelli. Nella versione Emadia c'è solo la misura da 123 e ovviamente ha uno sviluppo verticale maggiore. La Emadia è solo profonda 46 mentre invece tutte le credenze hanno sia il 46, che questo che vediamo qua, che il 56 per chi vuole una maggiore capacità di contenimento o un piano d'appoggio inegrabilmente più profondo. È una collezione molto flessibile in termini di finiture perché abbiamo una buona gamma di nobilitati, laccati opachi, laccati lucidi, metallizzati, essenze, quindi molto vasta la gamma di materiali e diciamo che nasce, si può fare anche tinta unita, ma visto che la collezione Ohio è valorizzata dall'unire elementi chiusi e i vani a giorno, i vani a giorno vengono realizzati con lo stesso principio della struttura da 15 millimetri e con le stesse lavorazioni a 45 gradi, quindi c'è un fil rouge, un tratto ricorrente su questo aspetto stilistico. Visto che nasce intorno all'abbinamento di elementi chiusi e elementi a giorno, viene molto bene bicolore come lo vediamo in questo caso. Molto vasta anche la collezione delle soluzioni per quanto riguarda i piedi, nel senso che ci sono i piedi in metacrilato, come vediamo in questo caso, altezza 8 o 12 centimetri, questo è quello da 8 che è piuttosto basso, ci sono i piedi cilindrici in metallo verniciato, H12 o H18, c'è un piede a staffa 8 centimetri e poi c'è anche il classico piedino scomparsa, se non ricordo male da un centimetro e mezzo, comunque che rimane molto arretrato e basso e quindi è un piedino che non si vede. Passo un attimo davanti e vediamo l'apertura, in questo questa che vediamo qui in showroom è una, ha peraltro laccato a poro aperto nero in questo caso, quindi un rovere nero, un po' vintage in questo senso, qui la vediamo con push pull, ma c'è anche poi la versione con le manigliette e le manigliette poi possono essere o quella integrata o quella posta un attimo sotto, sono manigliette che poi possono essere laccate nei colori della gamma. Qui vediamo il push pull con delle cerniere con un lieve effetto spinta, adesso lo rivediamo, interno i ripiani sono sempre in vetro molato, diciamo io non sono un fan del push pull perché magari se ho la mano sporca o su certe finiture come un laccato bianco, anche se non ho la mano sporca comunque un po' un segnettino rimane, magari devo stare dietro un po' a pulire, è innegabile che con un disegno di questo tipo dove viene creato il movimento grazie al telaio perimetrale e grazie alla giusta posizione di contenitori ed elementi al giorno è innegabile che l'assenza di maniglia sia molto bella, peraltro se non sono un fan del push pull, però un conto magari in un ambiente ad uso intensivo come la cucina, una credenza al soggiorno che non la si apre chiude dieci volte al giorno, il push pull è una scelta, una scelta validissima, io stesso che non sono fan del push pull a casa mia il soggiorno lì ho perché giustamente il soggiorno poi è come si suol dire più pulito. Collezioni di credenze madi e modello Ohio.